ah e ti ricordo che tramite il supporto al creatore in basso a destra se inserisci il codice creatore tnt barney mi supporti in maniera totalmente gratuita ogni volta che fai un acquisto in game guarda l'ora doloressa o senti io ho gente dietro gente dietro mi e l'ho carcato queste a parte c'è l'ultimo no no c'è uno fatto vita anche a grazie si scaruffa non è mai visto muovere sicuro bianco forte molto molto bravi allora gli ha detto corona c'è le mani del tesoro sì c'è la bananità sì ma non ne vale alla safe e comincia qua quindi direi da andare la che c'è andato lui è prepariamoci al poi è venuto vita a me ora amalgato tutto 38 ma c'è un altro ma c'è un bacato da caso lì mi sono da casa della terra mi spaccato arrivo 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 c'è ma è solo 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 però tutto ok mi lavo perché sta arrivando gente pingati si continua continua specchi no scherzavo 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 no ma ma mazza mazza ho traccato questo no morto bene bene perché ho avuto tutto che non ci vede bravo ancora 15 arrivano c'è stato bianco e lancia spade d'oro sì a terra 1 a terra 1 sì 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 perfetto meglio a terra 1 qua se siete cito bianco porto che lui porto anche lui si stanno curando mi dentro non ci sono più forze siete se bianco a casa porto porto c'è lo farlo cino più peso che cosa bellissimo del fatto c'è da sotto il nostro ok melanzana grazie per i 30 centesimi perché questa partita è da siamo safe qui sì 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 siamo siamo qua nella 50 penso non capisco non capisco a terra 1 a terra 1 a terra 1 hs non si può push a ragazzi no 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 mi sono messo non ci spugna un attimo per vede il meglio se lo va resta più che altro comunque allora qua ci sono ci sono da una finestrella fermati alber che l'attenzione di cannes attestate no scusami ma fa vivere insieme qui dentro comunque una equa qua dentro uno è morto morto subito proprio a bot eccolo qui preso morto poi che bella partita vuoi a quanto è più facile l'arena 11 kg è stato veramente facile incredibilmente troppo facile grazie a tutti grazie a tutti